Sono pronto a assumere i due agenti protagonisti della vicenda con la trans di Milano. Parola di Dante Le Capitani, sindaco di Pescate, una provocazione forse ma non poi troppo. Il primo cittadino del comune delle porte di Lecco, già noto per le multe salate a chi abbandona i rifiuti o per le ronde contro i malintenzionati insieme al fido Pitbull, ha fatto della tutela della sicurezza una questione di principio. E nella discussa vicenda di Cronaca che in questi giorni ha diviso l'Italia, filmato della trans fermata a manganellate da agenti di polizia locale a Milano in zona Bocconi, non ha certo dubbi su da quale parte stare. Per il loro intervento gli agenti sono stati indagati dalla procura di Milano con l'accusa di lesioni aggravate e dall'abuso della pubblica funzione. Attualmente il nostro comando di polizia locale intercomunale spiega dei capitani è composto da due agenti fissi e cinque in prestito da altri comuni ma per mantenere alta la sicurezza nel periodo estivo cerchiamo altri vigili decisi e risoluti come i nostri. Personalmente prosegue e sarei pronto ad assumere i due agenti del comune di Milano protagonisti della vicenda con la trans vicenda che ha caratterizzato la cronaca degli ultimi giorni. Non conosco i loro nomi, conclude il sindaco, ma se volessero collaborare con noi siamo pronti a raccoglierli per impiegare in operazioni di controllo del territorio qui a Pescate o anche a Garlate se il mio collega vorrà perché la sicurezza dalle nostre parti non è un optional ma una certezza. Parole destinate a far discutere. Per la cronaca gli agenti coinvolti e indagati per quanto accaduto sono tre e non due ma senza dubbio in questo caso a Pescate nessuno rimarrà escluso.